Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Una nuova avventura suggestiva in Italia per il celebre attore turco, Ken Yomen, pronto a mettersi in mostra con un nuovo ruolo inedito. La sua carriera ha raggiunto l'apice anche in Italia grazie alle ultime serie di successo su Mediaset, ma ora è pronto a sbarcare in Rai. Ken Yomen ha fatto parlare di sé in Italia anche per la sua love story con Diletta Leotta. I due si sono lasciati già tanto tempo fa, ma in passato si era parlato anche di un possibile matrimonio. Negli ultimi anni si è concentrato sulla sua carriera riuscendo così a conquistare il pubblico grazie alle serie TV. Una nuova avventura per lui in Italia con le riprese che sono già iniziate. Ecco dove scopriamo tutti i dettagli del suo nuovo da urlo in vista della prossima stagione televisiva. Un progetto significativo come remake di un successo di tanti anni fa, ecco la verità a galla. Secondo le prime anticipazioni per la prossima stagione televisiva, In Rai sbarcherà la nuova fiction di Sandokan con protagonista assoluto l'attore Ken Yomen. Un appuntamento imperdibile nella fascia serale, Sandokan è un progetto da urlo prodotto da Lux Vide con Rai Fiction con le riprese in corso in Calabria. L'attore turco vestirà i panni della celebre tigre di Monpracem, dopo i suoi successi televisivi su Canale 5 con la serie televisiva viola come Il mare con Pier Silvio Berlusconi che ha già il mandato per le riprese della terza stagione. Ci saranno altri nomi da urlo per il remake di Sandokan, come quelli di Ed Westwick che sarà Lord James Buck e di Alessandro Preziosi che vestirà i panni di Yanez. Un evento significativo con le riprese già andate in onda sulle spiagge calabresi come si evince dagli scatti pubblicati nelle ultime ore. Un remake della serie Rai anni 70 divenuta celebre in tutto il mondo. La nuova serie dovrebbe così andare in onda tra l'autunno e inverno prossimo. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.